venerdì ventisette agosto buongiorno a tutti e bentrovati in diretta come ogni mattina puntuali alle sette per la nostra rassegna stampa è il momento però di dare uno sguardo al meteo in questo inizio di giornata con alcune belle immagini che ci arrivano come sempre dalla nostra regione qui siamo sulle monte lussari vediamo il sole che sta sorgendo dietro alle montagne dietro alle nuvole basse in questo momento basse anche le temperature 4 gradi e un decimo sulle monte lussari il termometro sale invece a fondo valle a tarvisio 10 gradi e un decimo rimaniamo in montagna allora sappada 8 gradi e due decimi a fornì di sopra dove ci arriva questa bella immagine il termometro segna 10 gradi e 4 decimi e poi ancora sul monte zoncolan 5 gradi e 3 sul piancavallo 7 gradi e mezzo scendiamo verso la pianura tolmezzo 14 gradi e 3 decimi a udine 16 gradi e un decimo a pordenone 15 gradi e 7 a gorizia il termometro segna 15 gradi e mezzo ancora nelle valli del natisone a cividale 15 gradi e mezzo 15 gradi e tre decimi in pianura cervignano adesso andiamo sulla costa andiamo nel capoluogo regionale a trieste 18 gradi in questo momento il cielo vediamo decisamente più nuvoloso a lignano il termometro segna 19 gradi e due decimi con una temperatura del mare di 23 gradi e 2 e chiudiamo il nostro giro di e temperature con grado 18 gradi e 4 decimi la temperatura in questo momento e vediamo anche qui il cielo molto nuvoloso una regione in questo momento un po' spaccata in due con più sole in montagna con qualche nuvola un po' più bassa più nuvole invece in pianura e sulla costa questa è la situazione in questo momento ma andiamo a vedere adesso come evolverà questa giornata questo venerdì per quanto riguarda il meteo un saluto ben ritrovati agli amici di udinese tv da fabio dal io di trebi meteo nella giornata di venerdì giungerà un impulso instabile dalla scandinavia fin verso il centro nord italia che porterà un peggioramento su molte regioni e un rapido peggioramento coinvolgerà anche il friuli venezia giulia nella nottata ma poi seguito da un rapido miglioramento infatti già avremo ampie schiarite sulle zone di pianura e costiere con soltanto un po' di instabilità poi nel corso del pomeriggio sui settori montuosi vediamo infatti nel dettaglio il tempo sul friuli che sarà già piuttosto soleggiato in mattinata sulle pianure salvo qualche residuo a nuvolamento al confine con il veneto poi dal pomeriggio si attiverà un po' di nuvolosità sui settori prealpini specie carnici con il rischio per qualche breve acquazzone temperature che scenderanno nei valori massimi infatti non supereranno i 25 e 26 gradi in pianura per quanto riguarda la venezia giulia anche qui tempo soleggiato sin dalla mattinata e per il resto del giorno ma con venti di bora in netto rinforzo soprattutto nella mattinata e temperature che anche qui non supereranno i 25 e 26 gradi ma per maggiori dettagli consultate l'app gratuita di tarraibi meteo subito le prime pagine dei quotidiani nazionali ora con in apertura l'attacco kamikaze nella giornata di ieri all'aeroporto di kabul tante le vittime allora andiamo a vedere il corriere della sera che titola in apertura l'isis attacca morte a kabul kamikaze in aeroporto almeno 90 vittime tra cui 12 soldati americani biden sotto accusa dice vi colpiremo la pagherete l'isis semina terrore distruzione sono almeno 90 i morti nell'attacco kamikaze all'aeroporto di kabul tra le vittime molti bambini e anche soldati americani e poi vediamo la foto a centropagina dei soccorsi alle persone ferite la bomba i corpi straziati le lacrime di disperazione cadaveri di civili che galleggiano nel loro sangue misto ai liquami puzzolenti nel canale della fogna lungo il perimetro dell'aeroporto i video diffusi tra gli afghani mostrano le immagini della strada di fronte arrossata brandelli di corpi ovunque bagagli sfondati donne uomini bambini che si disperano questo lo scenario ieri all'aeroporto di kabul e abbiamo l'analisi di guido olimpo che dice il loro obiettivo è creare il caos i terroristi cercano sempre il momento migliore l'opportunità il simbolo e la folla radunata all'aeroporto di kabul ha rappresentato tutto questo un target facile da colpire e da punire una strage con diversi destinatari joe biden con i marines dilaniati la comunità internazionale i talebani stessi un'azione attribuita allo stato islamico cora san gli uomini del calipo e questa è la prima pagina del corriere della sera vediamo di spalla anche tante altre notizie tante altre analisi approfondimenti su quanto accaduto le altre notizie nel taglio basso durigon che si dimette dice non sono fascista la politica interna l'annuncio del sottosegretario all'economia dopo l'incontro con salvini le mie parole sono state fraintesi ha detto durigon e poi vediamo per quanto riguarda la cronaca questa morte sospetta ancora da chiarire di una farmacista 27enne e a castelfranco veneto farmacista morta mistero in veneto suicida lo zio e poi il covid pochi vaccinati la sicilia in giallo oggi la decisione continuiamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali andiamo su repubblica e vediamo il titolo isis bagno di sangue a kabul la tragedia afghana la strage annunciata dall'intelligence si è compiuta attacchi multipli uccisi almeno 90 civili e 13 marines oltre 150 i feriti molti bambini tra le vittime uomini bomba esplodono tra i profughi all'aeroporto la rivendicazione colpiti i soldati americani i loro collaborazionisti e i talebani draghi ha parlato di un atto orrendo e il presidente americano biden dice il ritiro continua ma vi daremo la caccia ovunque e la pagherete anche su repubblica abbiamo un'analisi di quanto accaduto nell'editoriale di maurizio molinari dal titolo il ritorno dei kamikaze l'attacco terroristico multiplo contro l'aeroporto di kabul con il pesante bilancio di vittime afghane e americane porta con sé il timbro dei kamikaze dello stato islamico l'isis è una mossa sanguinaria con cui i jihadisti dimostrano di saper sfruttare errori e debolezze dei loro avversari gli errori del presidente americano joe biden che ha avvallato un ritiro affrettato contro l'opinione del pentagono e dell'intelligence credendo nella possibilità di affidare la stabilità dell'afghanistan ai talebani e alle loro promesse sottoscritte a doha nel 2020 e le debolezze dei talebani che arrivati a kabul senza sparare un colpo sono palesemente privi di apparati di sicurezza e di leader capaci di controllare il territorio nazionale e impedire le infiltrazioni nella provincia del korasan questa la prima di repubblica ancora vediamo anche la stampa che titola la strage di kabul ci sono morti ovunque il canale è color sangue questo racconto dei testimoni e poi sulla stampa troviamo l'analisi di domenico quirico che parla del nemico permanente e si parla ovviamente del dell'isis e li avevamo dimenticati gli untorelli del terrore planetario scrive domenico quirico braccati dai curdi e dalle bombe americane ridotti a poche decine di eh dispersi uccisi capi perdute le città della loro feroce recita statalista sopravvivevano nell'attizzare conflitti locali ancora andiamo anche sulla prima del fatto quotidiano peggio del vietnam scrive il fatto sangue sul ritiro di biden l'isis scappa attacca marinze fuggitivi 72 morti ci sono ovviamente numeri discordanti per quanto riguarda le vittime la stampa parlava anche di 120 morti la strage annunciata scrive il fatto trump chiede la testa del presidente americano ora l'unione europea e la nato sperano che i talebani fermino i terroristi oggi l'italia conclude l'evacuazione andiamo anche sul manifesto la pista del terrore scrive il manifesto e anche qui si parla di una strage annunciata all'aeroporto con un attacco complesso rivendicato in serata lo stato islamico eh capitalizza l'attenzione del mondo concentrata su kabul tra i 60 morti molti civili che si valcano nella speranza di partire almeno 12 soldati statunitensi andiamo anche sulla prima del foglio anche qui vediamo il ritiro di biden è un bersaglio perfetto per l'isis scrive il foglio lo stato islamico attacca l'evacuazione di massa all'aeroporto di kabul e uccide decine di civili e 12 americani raffiche anche contro un c 130 italiano la pilota ha detto ci hanno puntato e ci hanno sparato dalla prima del foglio andiamo adesso sul giornale strage annunciata titolo al giornale kamikaze isis e talebani due esplosioni all'aeroporto della capitale afghana almeno 60 morti e 40 feriti tra le vittime bimbi e marines gli 007 americani avevano avvisato biden sotto accusa i repubblicani chiedono le dimissioni libero altro che trattare ci sparano scrive libero i mostri barbuti di kabul kamikaze contro l'aeroporto ormai è guerra civile bersagliato anche un velivolo italiano il tanto intanto il nuovo regime inizia a legiferare in afghanistan sarà proibita perfino la musica e anche su libero poi vediamo le dimissioni di durigon la lettera del sottosegretario leghista ho deciso mi dimetto ecco perché e salvini attacca la morgese dice ora tocca ad altri lasciare il posto vediamo anche la prima della verità che non apre con l'attacco all'aeroporto di kabul ma con le parole del ministro bianchi dai banchi a rotelle a bianchi senza rotelle scrive la verità il ministro sparge ottimismo sulla ripartenza della scuola ma è tutto affidato al green pass la cui applicazione sta scatenando il caos a pochi giorni dalla campanella nulla è stato fatto per aule orari d'ingresso e trasporti si rischia il bis dello scorso anno e poi vediamo a centro pagina kamikaze annunciato strage a kabul vediamo anche la prima pagina del gazzettino anche qui a centro pagina kabul la strage dei kamikaze almeno 60 vittime 140 feriti nell'attacco all'aeroporto la rivendicazione dell'isis k sfida al regime e vediamo a centro pagina l'orrore tra migliaia di disperati in fuga colpiti più deboli che cercano di partire nel taglio alto invece la cronaca con la vicenda di castelfranco veneto serena e simone due morti e due misteri castelfranco segni sul collo della 37enne lo zio suicida poco dopo le indagini dei carabinieri ora puntano a far luce anche sull'eventuale correlazione tra le due morti il mistero si infittisce al momento nessuna pista è stata esclusa anche se nessun elemento farebbe pensare al coinvolgimento di terze persone nella morte della donna e poi il caso del bimbo di 5 anni morto nei giorni scorsi a padova l'autopsia del piccolo giacomo sospetta malformazione cardiaca andiamo di spalla al covid veneto l'ottantaquattro per cento dei positivi non era stato vaccinato settecentodiciannove i nuovi positivi in veneto nelle ultime ventiquattro ore e poi si parla del green pass obbligatorio dal primo settembre per scuola trasporti a lunga percorrenza e poi nel taglio basso invece il turismo trae nell'occupazione 53 mila assunzioni in vento andiamo a vedere anche la prima pagina del corriere del veneto e vediamo quali sono i titoli principali titoli di apertura qui siamo sull'edizione di treviso e belluno nel taglio alto il virus torna con operai e badanti come l'anno scorso rientro dalle ferie riaccende i contagi anche se ora i focolai si spengono prima ha treviso 216 macedoni positivi allarme anche nel bellunese molti non sono vaccinati e poi vediamo nel taglio centrale invece le tragedie dell'estate farmacista morta mistero sulle cause lo zio si toglie la vita e poi a cavallino treporti spinge un turista che cade e muore a seguito appunto di una lite e in un campeggio a cavallino treporti e poi travolta in bici mentre va al cimitero un'anziana a santa lucia di piave per quanto riguarda lo sport paralimpiadi d'oro raimondi d'oro nella piscina di tokyo una bella medaglia per il nuotatore raimondi d'oro ancora sempre sui quotidiani nazionali andiamo a vedere adesso anche la prima del sole 24 ore che titola in apertura fatturato crescita record sull'estero la ripresa dell'industria l'istat misura a giugno una crescita del 3,1% sul mese precedente incremento storico della componente estera nei ricavi industriali e poi vediamo anche sul sole 24 ore Kabul l'isis fa strage all'aeroporto decine di vittime andiamo adesso anche sulla gazzetta dello sport e andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura un quotidiano sportivo in questa prima parte di rassegna c'è cristiano ronaldo in apertura e il titolo è cr ciao ronaldo ha scelto lascia la juve se ne va al siti servono 25 milioni in 24 ore si chiude decisivi la missione dell'agente mendes e il siti guardiola e in europa riparte subito la sfida a messi ci sono infatti i gironi di europa league scusate di champions league tra poco li vedremo intanto l'analisi sul su ronaldo e la juve ha dato meno di quanto ha avuto scrive la gazzetta ronaldo e la juve vicini all'addio dopo tanti piccoli strappi la storia tra cr7 la signora è a un punto decisivo il bilancio dice che la juve ha dato a ronaldo più di quanto il grandissimo numero 7 abbia portato ai bianconeri per quanto riguarda la champions vediamo di spalla champions superstars allegri sfida lukaku in zaghi ciancelotti gasp può crederci pioli dura ma bella per quanto riguarda il milan le avversarie saranno atletico madrid liverpool e porto l'inter real madrid shaktar donets e sheriff l'atalanta via real manchester united e young boys juventus chelsea zenith e malvo chiudiamo la gazzetta dello sport sulla quale ritorneremo più tardi anche per parlare di udinese udinese che oggi scenderà in campo per la seconda di campionato contro il venezia e andiamo proprio sui quotidiani locali dove ovviamente c'è spazio anche per lo sport per l'udinese in prima pagina ecco la prima del gazzettino del friuli vediamo nel taglio centrale la corsa all'immunità di gregge mancano 100.000 vaccinazioni anti covid in regione per raggiungere il risultato sarebbe la prima in italia scrive il gazzettino e poi sempre in tema covid certificati e ingressi presidi a raccolta a udine il prefetto non esclude il ritorno ai doppi turni verificheremo ha detto il prefetto questo in base anche alle decisioni che arriveranno dai tavoli nazionali sulla capienza massima sui mezzi di trasporto al momento la richiesta delle regioni è dell'ottanta per cento e questa appunto la situazione in regione i vigili del fuoco chi non ha green pass mangia all'aperto verso la battaglia a colpi di carte bollate nel taglio centrale vediamo 10 persone ricoverate in rianimazione ieri in regione pochi contagi rispetto alla giornata precedente 26 nuovi casi ma appena 1.088 tamponi dicevamo lo sport udinese a caccia dei primi tre punti scrive il gazzettino tra poco andremo anche sulle pagine interne per quanto riguarda la cronaca cittadina di spalla fontanini curare di più i cimiteri e poi è nel taglio basso sempre a udine approvato il progetto definitivo per la sistemazione di via ramandolo tornando a parlare di sanità ospedale di san daniele verso un vertice sindaci regione dopo che nei giorni scorsi l'assessore regionale alla salute aveva ribadito la strategicità dell'ospedale di san daniele non ci saranno ulteriori dimensionamenti aveva detto l'assessore riccardi il raduno delle frecce le frecce tricolori fervono i preparativi per il fine settimana del 18 e 19 settembre agricoltura olio friulano produzione in aumento andiamo nel taglio alto dove troviamo trovano spazio le notizie poi approfondite nelle pagine della cultura e degli spettacoli si parla di Mittelfest domani l'inaugurazione ufficiale con il presidente sloveno Borut Pakor Mittelfest parte con un concerto dedicato ai fiumi d'Europa e al ponte del diavolo poi è notte in arena a Lignano la potenza dei subsonica che festeggiano 25 anni di musica e ancora il concerto a mezzanotte oggi in corte morpurgo con un duo pianistico andiamo anche sulle pagine del messaggero veneto cominciamo con il messaggero veneto di Udine e vediamo i titoli di apertura vaccini appello in Ateneo il rettore scrive ai docenti invitandoli a mettersi in regola in vista della ripresa dell'attività didattica anche se non lo scrive nero su bianco la lettera inviata a tutto il personale dell'università dal rettore Pinton vuole essere un invito alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 e per chi rimane arroccato sulle sue posizioni Novax la stessa lettera è un invito a sottoporsi al tampone ogni 48 ore per ottenere il Green Pass da mercoledì prossimo infatti senza certificazione verde gli studenti e il personale non potranno accedere ai poli universitari ancora diamo un'occhiata anche alle altre notizie anche qui vediamo a centro pagina Afghanistan kamikaze a Kabul e decine di morti di spalla un po' di cronaca i ladri invisibili serrature aperte senza lasciare traccia a San Daniele parte la kermesse del prosciutto una piccola aria di festa frecce di nuovo in volo per celebrare i 60 anni e c'è una livrea speciale e poi nel taglio alto vediamo lo sport Udinese oggi ancora al Friuli cerca i tre punti con il Venezia e poi i sorteggi della Champions League ecco le big nei gironi delle italiane prima li abbiamo visti sulla gazzetta economia, confindustria e sindacati immunizzazione obbligatoria la crescita economica è legata alla capacità di contenere la diffusione del coronavirus i presidenti delle due confindustria regionali e i sindacati ne sono convinti nell'autunno pandemico l'emergenza si chiama covid un'eventuale terza ondata sarebbe insopportabile per l'economia e questa è la prima pagina del messaggero veneto di Udine poi vediamo anche la pagina che apre il fascicolo dedicato alla città si parla del progetto per la risistemazione di via Ramandolo parcheggi per 36 auto in via Ramandolo approvato il progetto il vice sindaco Michelini assessore ai lavori pubblici parla di un intervento che i cittadini della zona di Chiavris attendevano da tempo servono altre due settimane per ultimare la pavimentazione di via Grazzano con parte della strada nel centro città ancora chiusa è chiuso anche il parcuno dell'ospedale di Udine traffico in tilt ieri davanti all'ospedale auto ovunque e poi il dibattito per la sostituzione dell'assessore battaglia Johan assessore all'istruzione al posto di battaglia clima caldo in lega sembra fatta per la consigliera già vicina a Fratelli d'Italia forse oggi la comunicazione ufficiale delle sindaco al gruppo era stata molto dura anche nei confronti della collega e del servizio mense sempre sul messaggero veneto cambiamo edizione andiamo nel Pordenonese vediamo anche qui i titoli principali i titoli di apertura vediamo anche qui l'appello in Ateneo al vaccino e la strage in aeroporto a Kabul a centro pagina le notizie che troviamo di spalla invece ancora a cronaca ma allora in piscina ragazzo disabile salvato dai bagnini e poi incendio a Porcia suocera soccorsa grazie alla nuora e la gatta in catene per dieci anni salvata dai volontari andiamo nel taglio alto e vediamo anche qui l'Udinese poi per quanto riguarda lo sport a Fontana Fredda stadio inagibile dopo due milioni di soldi pubblici vediamo anche qui le prime pagine del fascicolo dedicato a Pordenone e provincia ecco qua no vax sospese gli infermieri i medici invece solo a metà congelato il rapporto di lavoro ma non l'esercizio della professione e sui Green Pass protesta dei Bidelli scrive il messaggero veneto di Pordenone sanità e scuola ancora protagoniste nel dibattito sulla lotta al coronavirus e sul difficile tentativo di ripartenza nei diversi settori della nostra società vediamo anche l'altra notizia che troviamo nella pagina accanto con il concerto concerto gente assiepata fuori distanziata dentro le transenne le due facce della medaglia anti-covid alla prima serata di music in village in centro città con la voglia di normalità tornano anche le proteste per i rumori regolamento rispettato ma appunto vediamo la situazione in città con la gente che rispetta appunto il distanziamento all'interno della piazza dove c'è l'area riservata agli spettatori del concerto invece non c'è distanziamento all'esterno oltre le transenne chiudiamo anche il messaggero veneto di Pordenone vediamo anche la prima pagina del piccolo siamo sull'edizione di Trieste con il primario di pneumologia che dice qui i Novax cambiano idea la conferma di Confalonieri direttore della pneumologia a Cattinara che dice ora i ricoverati sono tutti non vaccinati questa la situazione a Trieste e poi vediamo anche sul piccolo a centro pagina appunto l'attacco dei kamikaze Isis a Kabul decine di morti anche bambini chiudiamo anche la prima pagina del piccolo e adesso iniziamo ad approfondire le notizie sportive di oggi lo facciamo sempre iniziando dai quotidiani locali dalle pagine del Gazzettino allora vediamo subito la prima pagina del fascicolo sportivo del Gazzettino che presentando la gara di oggi tra Udinese e Venezia titola Gotti a caccia dei primi tre punti ma la matricola Venezia è una squadra difficile ma i Doma anche in dieci contro il Napoli ha saputo tenere in mano la partita non bisogna a peccare di presunzione questo è il titolo dell'articolo di apertura del Gazzettino che poi scrive così l'Udinese non deve vanificare i progressi evidenziati contro la Juventus e Guaia sottovalutare l'impegno con il Venezia peccando di presunzione per conquistare i primi tre punti in campionato la squadra di Gotti dovrà essere più continua rispetto a domenica scorsa dovrà limitare gli errori specie dietro dovrà essere sempre equilibrata paziente e propositiva solamente così può sperare di farcela contro un avversario deciso a rifarsi dopo il K.O. di Napoli e poi abbiamo tutto l'articolo che prosegue sottolinea lagunari pericolosi vediamo anche poi per quanto riguarda il mercato i pozzo strappano Brandon Sopial Ren imminente l'arrivo dell'astro nascente del calcio francese e poi invece di spalla il marchio Cipriani sposa l'udinese questo per quanto riguarda le pagine del gazzettino adesso andiamo a vedere anche le pagine dedicate all'udinese sul messaggero veneto vediamo anche qui i titoli principali del fascicolo sportivo eccolo qua e allora vediamo l'udinese per prendere la prima vittoria deve spegnere l'entusiasmo del Venezia la matricola sarà questa sera allo stadio Friuli accompagnata da molti tifosi che si godono l'A dopo 19 anni nelle serie minori e anche qui leggiamo le prime righe dell'articolo da una parte la consapevolezza che l'udinese ha un bel po' di carattere dall'altra l'entusiasmo del Venezia di nuovo protagonista in A dopo 19 anni nelle serie minori ecco il menu della serata allo stadio Friuli dove va in scena il primo anticipo della seconda giornata un bis per i bianconeri che hanno esordito la scorsa domenica sul campo di casa ricavando un punto prezioso grazie al pareggio in rimonta sulla Juventus e poi vediamo l'articolo che prosegue nel taglio basso Bruno Pizzu nella sua rubrica area di rigore dice il momento di schierare subito anche Okaka o Deulofeu e allora vediamo l'ipotesi di formazione fatta dal messaggero Veneto con Silvestri in porta in difesa Bekao Noiting e Samir a centro campo Molina Pereira Wallace Arslan e Udoge in attacco Okaka Pussetto e ancora vediamo anche qui le parole di Gotti Gotti è il ricordo dei flop con le neopromosse non c'è nulla di facile questo il titolo dell'articolo in cui appunto si fa il punto sulle parole di Gotti alla vigilia della gara contro il Venezia ieri la consueta conferenza stampa vediamo l'avversario il Venezia con Zanetti che dice dovremmo essere freddi e cattivi sottoporta l'udinese una squadra forte con elementi di spessore e credo che dopo aver giocato di rimessa contro la Juventus stavolta proverà a fare la partita da Udine inizia un nuovo percorso per noi ha detto Zanetti ora tutti sono pronti a darci per retrocessi ma questo ci deve dare la carica e sono convinto che con il lavoro saremo qui tra due o tre mesi a dire il contrario chiudiamo anche questa pagina del messaggero Veneto e andiamo adesso sulla gazzetta dello sport andiamo a vedere anche qui torniamo sulla gazzetta e andiamo a vedere la pagina in cui si parla di Udinese della partita di oggi contro il Venezia ma anche del mercato bianconero Udinese Venezia la sfida del calcio più globalizzato qui passa lo straniero scrive la gazzetta il club di Pozzo specializzato nel lanciare talenti esteri supermercato per Niederauer acquisti da tre continenti e poi vediamo tutto l'articolo la sfida planetaria Udinese Venezia guardano al mondo club ambiziosi realtà multietniche scrive la gazzetta dello sport e poi vediamo anche qui di spalla la possibile formazione dell'Udinese con Silvestri in porta Becao Neutin e Samir in difesa Molina Arslan Wallace Pereira e Udogia centrocampo in attacco il duo Okaka Pussetto e poi vediamo ancora per quanto riguarda il Venezia una curiosità domani vaccino per otto veneziani l'invito alla città venite con noi nel taglio basso i 110 anni dell'AIA Rocchi ai giovani arbitri dice dovete divertirvi chiudiamo questa pagina della gazzetta dello sport ma rimaniamo su questo quotidiano torniamo in prima e andiamo a vedere anche le altre notizie oltre al titolo di apertura dedicato appunto al possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus vediamo nel di spalla come abbiamo detto prima la Champions e poi ancora il mercato Mbappé più real il grande colpo rilancio a 180 milioni il PSG ne vuole 200 vediamo ancora la Roma gioia a Zaniolo torna al gol in nazionale Roma avanti e poi nel taglio basso la Milano di Magnan oggi il baccaio Codei rossonero di Francia e poi il focus effetto covid sul calcio perso oltre un miliardo per quanto riguarda il campionato oggi Udinese Venezia e poi questa sera Verona Inter Lautaro vai con Zecco ecco la nuova copia per il bis dell'Inter che giocherà appunto questa sera a Verona andiamo nelle pagine interne per approfondire velocemente i titoli principali vediamo per quanto riguarda Cristiano Ronaldo l'ora dell'addio scrive la gazzetta la gente dirotta la sua stella verso il city Mendes a Torino convocato dalla Juve c'era pure Raiola si chiude a 25 milioni caccia al sostituto di Ronaldo si trattano Icardi e Ken con il blitz negli Emirati ha convinto lo sceicco a prendersi Cristiano risolti le frizioni tra la gente il portoghese così la soluzione last minute fa tornare il sereno ancora invece per quanto riguarda i sorteggi di Champions League andiamo a vedere cosa dicono le squadre interessate per quanto riguarda l'Inter finito nel girone con Real Madrid Shakhtar e Sheriff remake Inter titola la gazzetta con Marotta che dice stesse avversarie inusuale per i nerazzurri Real Madrid e Shakhtar come l'anno scorso e poi l'inedito Sheriff ancora vediamo invece la Juve che sfida Chelsea Zenit e Malmo Nedved dice Chelsea forte ma passiamo i bianconeri contro i campioni in carica occhio a sottovalutare Zenit e Malmo e poi ancora andiamo a vedere l'Atalanta provaci Atalanta scrive la gazzetta Atalanta che è finita nel girone con Villareal Manchester United e Young Boys per Cassi dice un girone da mal di testa il presidente della DEA squadroni di esperienza ma ce la possiamo giocare e poi chiudiamo con il Milan ricomincia Milan ricomincia appunto questo è il titolo Milan che nel girone vede anche Atletico Madrid Liverpool e Porto Pioli dice gruppo da 15 coppe stimolante l'Atletico ultimo avversario nelle 2014 poi il Liverpool delle due finali e il Porto questo per quanto riguarda la Champions i gironi di Champions League sulla gazzetta dello sport adesso cambiamo quotidiano e andiamo a vedere le altre prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali vediamo il Corriere dello sport e Tutto Sport eccole qua le abbiamo recuperate vediamo Tutto Sport Juve versus Lukaku ma CR7 parte Allegri Pesca il Chelsea Inter contro Ancelotti l'Atalanta trova lo United e Pioli sfida Simeone e Klopp il sorteggio dei gironi Champions sforna grandi sfide e tiene banco il futuro di Ronaldo ieri Mendes a Torino per il vertice con la Juve che ha dettato le sue condizioni Cristiano è sempre più vicino al City che affronterà il Paris San Germen e poi vediamo ancora nel taglio basso Cairo senza alibi che disastro il mercato Toro scrive Tutto Sport poi in Conference League Roma Spettacolo Felicità Zaniolo Turchi Travolti Giallorossi ai Gironi con i gol di Cristante del Fantasista e di El Sharawi e poi le Paralimpia di Azzurri Fenomenali l'Italia domina in piscina Bocciardo e Raimondi Oro Argento per Gilli Beggiato e la 4x50 stile libero bronzo di Bogioni ancora chiudiamo con la prima pagina del Corriere dello Sport che sulla vicenda Ronaldo titola Capolinea Ronaldo verso il City e Juve Icardi o Raspadori come alternative alta tensione con Mendels Pioli la svolta a Parigi pronta l'offerta cash a Danielli CR7 al telefono con Guardiola il tecnico disposto ad accoglierlo Maurito diventa la prima scelta ma nel taccuino c'è anche Ken nel taccuino della Juve e poi nel taglio alto anche qui il sorteggio Champions Milan in salita Lukaku per la Juve Inter Ciancelotti e poi ancora anche qui vediamo nel taglio centrale la Roma Zaniolo emozioni e magie Murigno batte per 3 a 0 il Trabzon Spore e si qualifica vediamo poi nel eh taglio basso il campionato con l'ora di Zecco Lautaro anticipo di questa sera all'Inter a Verona prima però alle 18 e 45 sarà in campo l'Udinese la Dacia Arena contro il Venezia e noi come sempre seguiremo live la partita dal nostro studio assieme a Massimo Campazzo i suoi ospiti andiamo allora a vedere in chiusura di questa nostra prima diretta quali sono gli appuntamenti di questo venerdì su Udinese TV alle 10 la prima edizione in diretta del nostro TG informazione live anche alle 12 alle 16 e oggi l'edizione delle 19 del nostro TG sarà un'edizione flash nell'intervallo della gara dell'Udinese alle 12 e 30 ecco qua vi ricordo che saremo in diretta dalle 17 e 30 assieme a Massimo Campazzo e ai suoi ospiti in studio proprio per seguire la gara dei Bianconeri inizierà alle 18 e 45 e vediamo anche gli altri appuntamenti di questa giornata alle 12 e 30 speciale per Cotocanta alle 14 e 30 a tutto quiz e poi alle 21 e 30 music social machine alle 22 e 30 l'ultima edizione del nostro TG della notte noi ci fermiamo qui per il momento e allora come sempre grazie per la vostra attenzione e ci rivediamo alle 10 con tutti gli aggiornamenti di cronaca e di sport nella prima edizione di giornata del nostro telegiornale buona giornata a tutti grazie per la visione